24 le ultime notizie Terzo giovedì d'estate qui a Domodossola, finora il tempo è clemente, come sta andando? Anche stasera sta andando molto bene, il tempo ci ha graziato anche fin troppo perché fa veramente caldo tutte le piazze sono piene di gente, ci prepariamo già al prossimo, è il cielo di Boa I giovedì saranno 7, il prossimo è il quarto, stessa formula, quindi in piazza Mercato si ballerà ci sarà un cantante dal vivo, cubano che farà ballare latino-americano in piazza Chiossi, solita piazza per i bambini, quindi equilibrismo, giocoleria e in piazza Doveretto, musica live, con una band di Beat Barons che farà musica beat anni 60 Questa formula o rimpiangono un po' il vecchio Giulio Domese? Questo bisogna chiederlo a loro, questa formula piace perché dà la possibilità di passeggiare nel nostro bellissimo Borgo della Cultura e permette anche alle attività di lavorare con un flusso gestibile e di farlo soprattutto in una giornata giovedì che tendenzialmente sì d'estate vedono flusso di clientela ma minore rispetto a quella che con queste iniziative si garantisce e in più i giovedì d'estate hanno il vantaggio di non recare problemi viabilistici, il giugno Domese è sicuramente una grande tradizione Per il momento stiamo cercando di proporre qualcosa di nuovo che però raccoglie un po' riscontro Grazie! 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 Grazie!